No alla nomina di un commissario che si sostituisca ai poteri e alle forze che insistono sul sistema Gran Sasso e cioè la regione Abruzzo, i laboratori nazionali di fisica e la concessionaria strada dei parchi. Sì invece a un commissario straordinario per la sola esecuzione degli interventi. I gruppi d'opposizione in consiglio regionale intervengono sulla crisi del sistema del Gran Sasso che potrebbe vedere la chiusura dell'importante galleria a partire da domenica 19 maggio. Tutti i gruppi consigliari in una conferenza stampa unitaria questa mattina hanno spiegato la loro posizione. Noi chiediamo oggi la convocazione di un consiglio regionale straordinario con all'ordine del giorno il tema urgente, serio del sistema dell'acquifero del Gran Sasso e proponiamo cinque punti precisi di intervento. Uno, chiedere al governo di stanziare con provvedimento legislativo le risorse. Due, sia al commissario ma al commissario per eseguire le opere, non per sostituire le competenze degli altri enti a partire dalla regione. Quindi il Presidente della regione assuma il ruolo, la funzione di coordinamento e gli enti soggetti coinvolti facciano tutto ciò che bisogna fare. Terzo, rinnovare e rafforzare il protocollo d'intesa di cooperazione per la prevenzione del rischio. Quarto, favorire la partecipazione dei cittadini e delle imprese. I giorni sono veramente pochi a disposizione, fra meno di 19 giorni, l'Italia verrà divisa in due. Infatti si sta intervenendo con una certa lentezza e ritardo di fronte all'emergenza. Bisogna subito chiedere al Ministero delle Infrastrutture di revocare quella decisione, di far sì che Strada e Parchi revoche quella decisione, perché la nostra regione non si può di certo permettere l'interruzione di un'infrastruttura autostradale che garantisce la mobilità. Lo Stato, i poteri statali devono metterci risorse, devono sostenere il sistema regionale, ma ciascuno di noi deve fare, ciascuno dei poteri regionali e locali devono fare il proprio dovere. Bisogna anche favorire, per esempio, la partecipazione dei sindaci, delle associazioni.